Ciao a tutti e bentornati in questa nuova edizione del TG Table, il telegiornale di Around Table, il telegiornale più amato e atteso perché in questo TG vi segnaliamo i board gaming in uscita sul territorio nazionale per il mese di ottobre 2024 e finalmente torriamo di domenica e riusciamo a pubblicare il TG prima che parta il mese, quindi possiamo avere effettivamente i giochi per il mese a venire, in questo caso ottobre. Come sempre per aiutarmi a stilare questa lista mi sono affidato agli amici di Irtemis che è con un negozio che arrivi settimanali più volte a settimana con le ultimissime novità, spesso le anteprime che tra l'altro potrete provare sui loro tavoli per l'appunto di trova, un negozio che organizza settimanalmente tornei di altre, di carte collezionabili che stiamo vedendo in queste settimane, è sicuramente il partner ideale per aiutarmi a mettere ordine nelle uscite dei board game dei principali editori italiani. Però come sempre le uscite dei board game sono attanagliate da un'area che nemmeno io quando lancio il D20 durante una sessione di Dungeons & Dragons e faccio tutti tre, nemmeno la soddisfazione di fare gli uno con la morte nelle mani, come sempre. E quindi i board game potrebbero subire dei ritardi, potrebbero slittare e quindi come sempre tenete d'occhio il vostro negoziante di fiducia come faccio io sempre con gli amici di Irtemis. E cominciamo a Sprombattuto con Asmodee che effettivamente fa slittare da settembre a ottobre Catchables, il gioco in cui dobbiamo lanciare a questi pupazzetti di gomma collezionabili, ci sono tantissimi, giocare delle carte e recuperarli dopo che abbiamo giocato tutte queste carte. Command of Nature, il deck building game dagli stessi autori di Casting Shadow e Air to Slay, il gioco con questi personaggetti super caruccini che però possiamo far scontrare tra di loro. Dracula vs Van Helsing, ovvero il gioco per due giocatori in cui da una parte del tavolo c'è Van Helsing che deve catturare Dracula e dall'altra parte Dracula che per vincere la partita deve sopravvivere alla notte e o trasformare i vampiri quattro persone in uno stesso distretto. The Vale of Eternity, il gioco in cui dobbiamo andare alla caccia di queste creature mitologiche e Zombie Burrito, il gioco in cui bisogna buttarsi addosso il burrito ma questa volta Zombie quindi che è stato un pochino lasciato marcire in frigorifero. Per avere più dettagli su tutti questi giochi vedete il video del mese scorso per avere più cognizioni al riguardo. Passiamo ai giochi effettivamente annunciati per ottobre e il gioco che io attendo in maniera spasmodica è Monkey Palace, un gioco da tavolo Lego. Ecco, non c'è più niente da dire. Il gioco Lego che dovreste trovare sugli scaffali dei negozi a partire proprio dalla settimana entrante, penso dovrebbe uscire effettivamente giovedì, io non so se riuscirò a metterci le mani in tempo per portarvelo proprio giovedì a che gioco stiamo giocando, un unboxing, un qualcosa, però tenete d'occhio il vostro negoziante di fiducia. Io amo i lego, c'è una playlist dedicata interamente ai lego qui su questo canale e quindi come faccio a non comprarlo? Non posso, devo assolutamente comprarlo. Altro gioco molto interessante, il Signore degli Anelli, Duel for the Middle Heart. Sarebbe fondamentalmente l'area skin di Seven Wonder Duel però con l'ambientazione del Signore degli Anelli. Da una parte il tavolo troveremo Sauron e dall'altra parte la Compagnia dell'Anello. Per tutti gli appassionati del Signore degli Anelli un gioco che non potete lasciarvi scappare soprattutto se siete in coppia e volete litigare con la vostra compagna o il vostro compagno. Asmoday pubblicherà anche mercoledì L'Attacco della Aed, un nuovo gioco dedicato a mercoledì Adams. In questo caso lo troviamo di fronte a un gioco cooperativo in cui dovremmo salvare degli obiettivi 2 su 5. Per farlo dovremmo giocare delle carte coperte in determinati luoghi dell'Accademia. Alla fine del round scopriremo le carte e vendremo a sapere anche le esigenze dell'obiettivo per essere salvato. Se riusciremo a salvarne 2 su 5 avremo vinto la partita ma se perderemo il terzo obiettivo avremo perso. Passiamo a un po' di miniature perché sta uscendo Marvel United il multiverso nella sua scatola base, quella dedicata a Maximus Carnage, World War Hulk e infine anche i mazzi squadra per avere più mazzi di carte dei nostri. Segnalo anche Unlock Kids 3, la terza scatola dedicata alle Unlock per i più piccoli per giocare colore per tentare di fuggire con i più piccoli da queste stanze virtuali. Segnalo anche l'uscita del Signore degli Anelli Living Card Game in ritorno del Re Saga, quindi il gioco del Signore degli Anelli, il gioco di carte non collezionabili del Signore degli Anelli. È il momento di segnalare anche un po' di espansioni come quella per Casting Shadow Tempesta di Ghiaccio, per Forest Shuffle Woodland Edge. Voglio segnalare anche la ristampa di uno dei giochi che ha fatto Sfaceli l'anno scorso, ovvero Sky Team, un gioco apprezzatissimo che sta vincendo anche tantissimi premi. Passiamo a Craneo Creation che continua a farci giocare con i nostri piccoli con animali in fuga. In questo gioco dovremo riprendere tutti gli animali fuggiti prima che faccia notte. Un gioco molto interessante perché dispone di una modalità cooperativa ma anche una competitiva, quindi per giocare in entrambi le maniere con i nostri piccoli. Come sempre quando giochiamo a giochi per i più piccoli giochiamo con loro. Altro gioco per i più piccoli è Gigasaurus, la grande avventura. Basato su una serie Netflix in questo gioco dovremmo recuperare gli oggetti della Gigantopedia. Recuperare tutti questi oggetti e fare attenzione anche ai bulli che potrebbero metterci bastoni tra le ruote. Un gioco molto carino dalla grafica, molto interessante. Attenzione all'interno del gioco c'è anche il Gigantosaurus. Super carino e divertente. Io la serie non la conosco però per gli appassionati potrebbe essere interessante. Altro gioco da fare in famiglie con i più piccoli è Luminus, una sorta di cacci il tesoro in cui dovremmo individuare i personaggi all'interno di queste tessere. Tramite questa torcia magica riusciremo a recuperare quanti più personaggi possibili? Non lo so, però il gioco promette veramente bene. Ha questa grafica, diciamo queste illustrazioni di stile francese che mi piacciono veramente tantissimo. Sempre da Cranio Creation in collaborazione con Quercetti, Point Art, i famosi chiodini di Quercetti al servizio dell'arte. In questo caso dovremmo adoperare questi chiodini per far individuare alle altre persone sedute a Roundtable una determinata immagine. Ricorda un po' Dixit, ricorda però anche tutti i giochi Quercetti che facevamo da bambini. Sarà super interessante. Sempre da giocare in famiglia arriva la Cranio Creation Golden Cup, un gioco in cui dovremo creare la nostra squadra al fine di ottenere per l'appunto questa Golden Cup. È una sorta di deck bug building in cui per l'appunto dovremo riuscire a vincere la finale di questa Golden Cup. Un gioco che sembra molto divertente, dovremmo sviluppare la nostra squadra attirando all'interno i migliori talenti, dovremmo anche gestire le nostre finanze, sviluppare degli schemi di attacco e difeso e sfidare i nostri avversari per arrivare alla vittoria della Golden Cup. Un gioco veramente molto carino ed interessante, come sempre da giocare in famiglia. E a questo punto passiamo ai party game e soprattutto a quello che aspetto in maniera spasmodica. Eroi di Barcadia. Il gioco in cui dovremmo recuperare gli alcolici per una grande bevuta all'interno di un dungeon. In questo gioco troverete 6 bicchieri per la birra e dovremo per l'appunto trovare i nostri alcolici per poi stabilire chi è il più grande bevitore seduto a round table. Il gioco è fondamentalmente un gioco in cui dovremo recuperare per l'appunto questi alcolici tramite un party game. Un gioco super divertente e che promette di fare veramente tanti danni attorno al tavolo. Quando lo giocate mi raccomando chiudetevi tutti in casa insieme e non prendete l'automobile subito dopo. E poi vi invito a sfidarmi se ci vediamo in qualche fiera. Passiamo a Behind Horizon. Un gioco per giocatori un pochino più esperti. Questo è un gioco di civilizzazione in cui dovremmo competere per diventare la società più influente. Dovremmo creare l'albero delle tecnologie più efficiente, implementare nuove invenzioni, incontrare personaggi storici ottenendo il loro aiuto, gestendo la produzione, la crescita della nostra comunità. Esplorando anche nuovi territori, fondare villaggi, quindi un gioco effettivamente di civilizzazione molto interessante. Riusciremo a ottenere la gloria eterna? Non lo so, però ci proviamo. Slitta a ottobre peste, il gioco di cui vi avevo parlato il mese scorso, in cui dovremo ricostruire la civiltà dopo la peste. Anche in questo caso dovremo implementare tecnologia, portare avanti la nostra società, la nostra città, tentando di essere più influenti di tutti, con la minaccia in commente, come sempre, della peste che potrebbe riabbattersi su di noi e portarci nuovamente indietro. Passiamo a Dracomaca che ci propone l'agenda investigativa del 2025. Silvia Fossati, esci il gioco, ci propone un'agenda che promette di tenerci compagnia durante tutto il prossimo anno sfidando il nostro intelletto. Riuscirete a farvi durare l'agenda tutto l'anno o comincerete a giocarla non appena arriverà a casa vostra, io penso proprio la seconda. Comunque un esperimento molto interessante che merita di essere seguito da vicino. Passiamo a Divi Game che ci propone un'espansione per il dice game di Bang, Handed or Alive. Inseriremo anche gli zombie all'interno delle nostre sfide con la pistola. Altro gioco che seguo con molta interesse è, fino a prova contraria, la collana del cielo stellato. Un gioco deduttivo però dove questa volta saremo degli avvocati. Il gioco mi interessa veramente tantissimo perché sin da quando l'ho visto sui social di DB mi ha ricordato uno dei miei giochi preferiti sul Nintendo DS ovvero Fenix Wright. In quel gioco noi eravamo degli avvocati dovevamo portare avanti il nostro caso e anche in questo caso noi dovremmo tentare di convincere la giuria delle nostre motivazioni. Il gioco sembra veramente molto interessante ed accattivante. Credo proprio che lo porterò qui sul canale. Altro gioco molto interessante è Lost in Adventure il labirinto di Daedalus. Altro gioco per chi si è appassionato di Chaos quest'estate su Netflix? Non lo so. In questo gioco dovremmo esplorare la mappa adoperando le carte scenario una per volta. Le carte scenario ci daranno delle indicazioni e a seconda delle scelte che faremo la nostra esplorazione e la nostra esperienza di gioco cambierà. Un gioco molto interessante perché per l'appunto promette di essere giocato più volte visto che prenderemo dei bivi che cambieranno completamente la nostra esperienza di gioco. Il gioco sembra veramente molto interessante e accattivante. È il momento di accontentare i fan dei polis perché divi game porta sui nostri tavoli messagine. In questo gioco dovremo prendere la bottiglia che per l'appunto la scatola del gioco agitarla aprirla versare il contenuto sul tavolo e poi asciugare. Ovviamente non è vero troveremo dei dadi con delle lettere dovremmo formare le parole delle parole usando tutte le lettere presenti sui dadi. Se riusciremo a creare la parola otterremo un diamantino ma se sbaglieremo perderemo il diamante. Un gioco molto carino piccolo ma sicuramente adatto a un gran numero di giocatori che è veramente molto accattivante anche se non siete fan di Sting. È debolissimo. Altro gioco che promette di essere super divertente è Procioni in cassa 4. In questo gioco dovremmo prendere a raffare tutte le cose presenti in questo centro commerciale ma anche tentare di rubarle ai nostri avversari. Un Paschorlac di Krinzia che però promette di essere super divertente grazie a delle grafiche super accattivate e un sistema di gioco digeribile per ogni tipologia di giocatore. Genos Game ci propone invece Cronologic Paris 1920. Un gioco investigativo in cui dovremo andare a risolvere i misteri dell'Opera di Paris per l'appunto nel 1920. dovremo sbagliare una matassa per portare a galla la verità. Abbineremo un personaggio a un luogo e scopriremo delle informazioni da rendere pubbliche e altre che serviranno solo esclusivamente a noi stessi. Raccoglieremo indizi per scoprire il colpevole. Il gioco sembra molto interessante perché ha una meccanica per scoprire e divulgare le informazioni accattivante abbiamo tre diverse indagini e cinque livelli di difficoltà in cui il colpevole diventa sempre più intelligente. In più avremo anche degli archivament per le partite in solitario quindi veramente molto interessante. ottobre è un bel mese per gli investigativi e non sono l'ultimo che vi segnaleremo. Genos Game ci porta una serie di espansioni per terraforming Mars e partiamo con Automa che ovviamente ci permette di giocare in solitaria. Amazonis e Veritas. Milestone e Riconoscimenti. Prelude 2 la vendetta non è vero. Utopia e Cimmeria. Inoltre Genos Game pubblicherà la ristampa di Wyrmspan. Se non siete riusciti a comprarlo per catturare i vostri draghi è il momento di recuperare. Anche Gaton Games fa slittare a ottobre Artico il gioco di cui vi avevo parlato il mese scorso. Questo è un collezione set in cui dovremo individuare gli animali in queste immagini per l'appunto Artiche. Se però collezionare lo stesso tipo di animali è vantaggioso. Diversificare ci permetterà di fare più punti. Quindi dovremo bilanciare queste due strategie di gioco. Saremo in grado di farlo per portare a casa la vittoria? Però proprio di sì per voi. Gaton Games pubblicherà a ottobre anche la terza wave di Mini Crimes. Classico gioco investigativo in cui tramite un'immagine dovremo risolvere un caso zoomando prendendo altre carte per l'appunto e andando a scoprire tanti piccoli dettagli per portare a casa la vittoria. Giochi economici e super efficaci. Passiamo a giochi uniti che dovrebbe far uscire Amalfi. Anche in questo caso io l'ho annunciato a Natale però ho sbagliato io in quel caso. Speriamo che dovrebbe essere arrivato. Il gioco ci porta nell'epoca delle repubbliche marinare e noi dovremmo riuscire a posizionare le nostre navi nei porti di tutte per l'appunto le repubbliche marinare per ottenere la maggioranza su di essi ma facendo sempre attenzione che il mare è cattivo e i venti potrebbero cambiare scompaginando le cose. Insomma avete visto l'american's cup? Ecco esattamente così. Un gioco molto interessante dai componenti super accattivanti e da un sistema di gioco che permette di essere appagante per tutti. Altro gioco molto carino da parte di giochi uniti è Arbolito. In questo gioco dovremmo costruire il nostro albero ma anche gli altri costruiranno lo stesso albero. Noi abbiamo a disposizione delle foglie per l'appunto da posizionare su questa struttura di albero in verticale facendo in modo di riuscire a esaurire tutte le nostre foglie. Però come sappiamo benissimo le foglie dagli alberi cadono e quindi quando cadranno dovremmo ricominciare da capo. Vincerà chi riuscirà a essere più bravo e più equilibrato nel posizionare queste foglie. Gioco veramente molto carino. Altro gioco molto interessante da giochi uniti è sicuramente Arborea un gioco in cui dovremo ricostruire il regno magico di Arborea creando un ecosistema perfetto e integrato. Dovremmo portare in pellegrinaggio gli abitanti del nostro villaggio nel tentativo di acquisire delle risorse per attirare delle creature esotiche. maggiormente i nostri abitanti del nostro villaggio si avventureranno e più possibilità di avere benedizioni avranno. Un gioco di piazzamento tessere e lavoratori molto accattivante dalla grafica sicuramente super appariscente. Sul tavolo fa veramente una splendida figura. Altro gioco super interessante da giochi uniti è Arum. Un gioco di carte che ricorda nelle meccaniche la briscola però in questo caso non dovremmo rispondere allo stesso seme. Nel gioco potremo vincere sia acquisendo oro sia riuscendo a individuare quante prese riusciremo a fare durante il nostro turno. Un gioco super accattivante adatto a tutti che ha delle carte veramente meravigliose. Giochi uniti pubblicherà anche la terza edizione di Kingsburg uno dei giochi più famosi che non ha bisogno di presentazione che ritorna con una nuova sfavillante edizione. Così come non ha bisogno di presentazione Pathfinder Arena finalmente riusciremo a giocare a Pathfinder con le miniature per picchiarci con i nostri avversari. Gioco dai componenti meravigliosi stupendo non c'è altro da dire bellissimo. Talisman è appena uscito con la sua nuova edizione ed è già arrivata a una nuova espansione il richiamo del destino ovviamente da Hasbro Gaming. Siamo pronti avere un tavolo enorme pieno di talisman e questo è il primo tassello. Little Rocket pubblicherà l'espansione per Cascadia Landmark. Un gioco molto bello che si arricchisce con questi per appunto landmarks o panorami. MS edizioni fa diventare ottobre il mese degli investigatori per chi ci propone tantissimi investigativi. A cominciare dalla storica linea Hidden Games di cui ci propone delitto sotto la neve e l'isola di misteri i classici Hidden Games ma anche un Hidden Games sotto sospetto otto diverse sfide investigativi. Quindi nella stessa scatola troveremo otto credo mini casi di Hidden Games. Molto interessante per le sfide di investigazione più veloce credo. Però ci propone anche una nuova linea di investigativi ovvero Profiler. Le due scatole che propone sono Sparizione ai Caraibi e i Fantasmi di Brunsbury. Questi giochi sono un pochino diversi dai precedenti perché sono un ibrido tra un investigativo e un escape room, escape game. Infatti in questi giochi dovremo risolvere dei misteri per accedere a nuovi indizi per risolvere il mistero generale. Giochi molto interessanti spero che siano all'altezza delle aspettative perché le mie sono veramente altissime. Passiamo al Ravensburger che ci propone Disney Villanus Filled with Fright dove ci propone il Bao Bao di Nightmare Before Christmas. Siamo a ottobre quindi siamo quasi a Halloween e quindi questo è l'espansione di Villanus perfetta. Altro gioco per tutta la famiglia da Ravensburger è Oh my pigeons! Oh i miei piccioni! Questa madrina mi è venuta male. Il gioco in cui dovremmo riuscire a recuperare più piccioni possibili è in alternativa a lanciare i dadi per cacciare i piccioni dalle panchine dei nostri avversari. Per attirarli ovviamente dovremo usare gli snack quindi prendiamo le patatine e le distribuiamo sul tavolo. Non è vero? Che schifo! State rovinando i componenti del gioco! Gioco super divertente adatto effettivamente a tutta la famiglia. Siamo a Serpentarium Games che ci propone Dungeon Crawlers un libro game super interessante e accattivante e due manuali per i giochi di ruolo. Sto parlando di Sine Rae qui è anno tredicesimo, Quarto Raich e Tenebrae altro gioco di ruolo super interessante per poter vendere ottobre il mese dei giochi di ruolo al di là del Dungeons & Dragons che trovate in edicolo. Prima di chiudere il telegiornale passiamo alla notizia che ha fatto Sfaceli in questo mese di settembre ovvero il passaggio del Modena Play a Bologna Play. Ad aprile per andare alla fiera del gioco dovremo recarci a Bologna. Forse è più facile per chi viene da sud ma più scomodo per le persone di Modena che comunque avranno una fiera tutta per loro a novembre del 2025. Ovviamente troppa in concomitanza con Lucca potrebbe essere un problema oppure potrebbe essere un modo per svuotare un pochino il padiglione Carducci a Lucca e bilanciare un po' le cose non lo so però forse questa possibilità di prendere semplicemente un treno per arrivare a Bologna diventa più facile e fattivo. Non lo so bisognerà vedere come effettivamente verranno organizzate queste due fiere. Ma a questo punto ringraziando ancora una volta gli amici di Irtemis che mi hanno aiutato a mettere ordine nelle uscite di ottobre 2024 ricordo Irtemis negozio che arrivi settimanali più volte a settimana le ultimissime novità i giochi in prova un wall pieno di giochi in sconto e un catalogo ampissimo con cui potete scegliere tantissimi titoli. Inoltre l'organizzazione di serate gioco nei pub a cui si sono affiancate anche le organizzazioni dei tornei di altre è stato il partner ideale per aiutarmi a segnalarvi tutti i giochi di ottobre. A questo punto come sempre invitandovi a tenere d'occhio il vostro negozio di fiducia vi auguro come sempre buon gioco.